Sono iniziate le visite tecniche all'interno della Galleria Santo Marco sulla linea ferrata Paola Cosenza. L'autorità giudiziaria ha finalmente dato l'ok a rete ferroviaria italiana che ha immediatamente dato il via ai sopralluoghi a renderlo noto un comunicato sampa diramato dalla stessa RFI. Sono oltre 40 i tecnici incaricati tra RFI e ditte appaltatrici a procedere ad un'approfondita ispezione della galleria constatando da vicino le condizioni dell'infrastruttura, da tener conto nella valutazione anche gli oltre 100 giorni di inibizione all'accesso e quindi di sospensione di qualsiasi attività ferroviaria e manutentiva. Considerata inoltre l'estensione della galleria che consta di più di 15 chilometri, sono stati programmati 5 giorni di visite ispettive. In questo periodo, continua la nota, le squadre tecniche raccoglieranno anche informazioni e dati anche attraverso strumenti diagnostici per pianificare al meglio gli interventi necessari al ripristino della linea. Per quanto riguarda invece l'assessura di un cronoprogramma dettagliato dei lavori, bisognerà attendere ancora, ma RFI tranquillizza che il tutto sarà comunicato al più presto. Per la riattivazione della linea invece, dopo la fine degli interventi, bisognerà attendere il dissequestro definitivo da parte dell'autorità giudiziaria che, secondo quanto comunicato, apporrà nuovamente i sigilli al termine dei lavori. Grazie a tutti.